Conciliazione come strumento per affrontare e risolvere le controversie in via amichevole è uno degli aspetti che riguarda il rapporto fra cittadini e gestori del servizio idrico integrato nella nostra regione. Nello specifico si parla dell'autorità idrica toscana, l'ente pubblico rappresentativo di tutti i comuni toscani, il quale sovrintende all'attività di gestione del servizio idrico integrato. La conciliazione rileva lente è stata attivata la scorsa estate e nel secondo semestre 2021 sono state ricevute 98 pratiche, 72 delle quali hanno trovato conclusione entro l'anno scorso. La domanda di conciliazione può essere presentata attraverso il sito web dell'autorità idrica toscana. Nel giro di 30 giorni l'AIT deve convocare l'incontro di conciliazione. La procedura si conclude in un termine massimo di 90 giorni solari della presentazione della domanda, uno strumento quindi importante per evitare di ricorrere in via giudiziale.